Grazie a Roberto Scapenato. Io ho parlato prima di un quadro desolante. Direi che quello che Roberto Scapenato ha parlato era molto di più, molto più triste di desolante. Una riflessione veramente paurosa dell'uso e abuso del potere e dell'arroganza del potere e quanto è difficile combatterla. Questo libro, come ha detto Roberto Scapenato, è un libro molto importante. Mi sembra che questo è il momento anche di ringraziare la casa editrice Chiara Lettere e l'editore Lorenzo Fazio per il coraggio e la responsabilità che lui ha avuto nel presentare questo libro al pubblico italiano. Quindi un ringraziamento sicuramente a Chiara Lettere. Ma, come ho detto prima, non sono qui per parlare io, ma per farvi sentire le persone che contano. Vorrei chiedere a Gianni Babocetto di parlare della sua parte in questa opera, dell'organizzazione del lavoro e di quella che lui pensa che è la parte più significativa e che è la parte più importante. Gianni. La nostra organizzazione del lavoro è stata molto intricata, nel senso che ci siamo divisi i temi, ma poi ciascuno è tornato su tutto il lavoro degli altri, quindi c'è stato un vero lavoro, insomma, un vero intreccio di interventi fra tutte e tre. Con questa caratteristica che ci viene non tanto dalla nostra scelta, o non soprattutto dalla nostra scelta, ma ci è stata imposta dai fatti e dalla cronologia. E cioè che il libro si è venuto costituendo in due parti. Gli anni che noi avevamo scelto di raccontare erano quelli che andavano, dopo aver fatto Mani Pulite, che racconta dal 92 al 2001, gli anni che noi riprendevamo a raccontare era proprio riprendendo quel filo dal 2001 ad oggi. Ebbene, dal 2001 ad oggi la cronologia, la storia del nostro paese ci ha fatto vedere prima il quinquennio berlusconiano del governo di centrodestra e poi un paio d'anni di governo di centrosinistra. Ecco, la cosa che appunto, dalla lettura, non da una nostra interpretazione, ma dalla lettura dei fatti, dal mettere in fila questi fatti, per cui è stato necessario anche arrivare alle 914 pagine. Tutti ci dicono, ma che mallopazzo avete mai scritto, come facciamo a leggerlo? Però in un paese in cui la memoria è così difficile, probabilmente è utile, se non necessario, mettere in fila i fatti per lasciare memoria di quello che è successo, anche a costo di dilatare il numero delle pagine. Ebbene, quella che doveva essere, che era sperata essere una rottura, una svolta, quella che avrebbe potuto essere un rinnovamento del nostro paese, non c'è stata. Prima abbiamo avuto i cinque anni berlusconiani, poi abbiamo avuto la svolta di centrosinistra, ma questa benedetta svolta, ahimè, facciamo fatica a vederlo, tant'è vero che la fiducia dello stesso popolo del centrosinistra nei confronti dei suoi governanti è calata, anzi crollata. Io direi questo, che però sbaglieremmo se ponessimo la data di confine, di questo confine abbiamo visto l'abile che non divide due mondi diversi, ma che frammenta due cose, ahimè, con troppe continuità dall'una all'altro periodo, sbaglieremmo se ponessimo questo confine nella data delle elezioni, e cioè nell'aprile del 2006. Io sono convinto che se c'è un crinale dal mondo, dall'Italia berlusconiana all'Italia, che poi cercheremo di definire, non più berlusconiana, ma non radicalmente cambiata da quell'Italia lì, beh, io credo che quel crinale, quel confine, quella data che divide i due periodi non sia l'aprile 2006, ma sia semmai la primavera estate 2005. Io di questo sono convinto. Cosa succede nella primavera estate 2005? Succedono le scalate dei furbetti. Lì capire che cosa è successo in quel periodo, secondo me, significa attrezzarci, avere gli strumenti per capire che cos'è l'Italia oggi. Allora, un furbone, uno che, insomma, le cose le capisce subito, svelto, come l'ora ministro Mastella, nella primavera del 2005, in un'intervista al Corriere della Sera, in quattro righe, già fotografa la situazione. L'aveva capita. L'intervistatore, il giornalista, gli chiede cosa diavolo sta succedendo con queste scalate, sapete? Contemporaneamente ci si accorge che si stanno muovendo dei personaggi che attaccano e scalano due banche, Anton Veneta e BNL, e addirittura il primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera. Cosa sta succedendo? La Stella risponde al Corriere. Semplice. In previsione delle elezioni, che ci saranno tra un anno, i poteri si stanno ridistribuendo. Chi pensa, chi teme di perdere le elezioni, cerca di portare a casa più potere possibile. Chi prevede di vincerle, quelle elezioni, cerca di metterle mani su alcuni gangli del potere finanziario nel nostro Paese. Perfetto. È una lettura, proprio nel momento in cui le cose stavano ancora avvenendo, che ci fotografa abbastanza bene la situazione. Ebbene, allora, che cosa è accaduto in quel momento? È accaduta una operazione in cui un gruppo di avventurieri, con poche speranze oggi diciamo, certo, ma a cose fatte è facile dirlo. Un gruppo di avventurieri, facendo affidamento su un dato reale, e cioè su una fragilità estrema del potere economico finanziario italiano, dà l'assalto, tenta l'impresa della vita. Certo, oggi diciamo, non ha funzionato, non gli è andata bene, però, ripeto, a cose fatte semplici. In realtà ci sono stati imperi che sono crollati per la loro debolezza intrinseca, ma che poi alla fine è bastato un colpettino per farli crollare. Ci sono dighe da cui basta togliere un granello per farle crollare, quando la diga già è minata e debole. Quindi non era così impensabile che potesse crollare il sistema finanziario italiano. Perché? Perché dietro queste banche, diciamo, sfilando queste banche, ridistribuendo il potere, indebolendo i cosiddetti salotti buoni del potere italiano, beh, dietro RCS c'erano le generali, dietro RCS e dopo RCS c'era Telecom. La Fiat in quel momento non era la Fiat di Marchionne risorta, era una Fiat debolissima sull'orlo del tracollo. Veramente non era così fuori dalla pensabilità che un branco di avventurieri, dando la spallata e con le relazioni politiche giuste, riuscisse a fare il colpo della vita. Però, appunto, quali erano le condizioni? Erano sostanzialmente due, avere buoni sostegni politici e metodi spregiudicati. Beh, questi ne avevano entrambi. E i padrini politici dovevano essere, come si dice adesso, bipartisan, cioè dovevano essere coprire a destra e a sinistra. Perché quel progetto lì stava in piedi in tanto quanto gli uni tenevano gli altri. Nelle telefonate uno dei protagonisti lo dice chiaramente, ne facciamo una di qua e l'altra di là. Cioè era uno scambio in cui gli uni potevano avere il loro guadagno, potevano fare il loro colpo perché gli altri avevano dall'altra parte il loro guadagno. Una banca e il Corriere da una parte perché anche il movimento cooperativo potesse avere una sua banca e potesse diventare il quinto conglomerato economico finanziario d'Italia. Mica poco. Allora, non ha funzionato, certo. Oggi sembra incredibile che un branco di personaggi come Fiorani o Ricucci potessero fare questa cosa. Ma non era così impossibile. Perché dietro questi qua c'era il potere vero. Quelli che stanno ancora adesso lì. E allora? E allora? Facile dire non ce l'hanno fatta. Ma non ce l'hanno fatta anche per alcuni casi del destino. Perché se non fosse entrata in vigore, proprio nella primavera, nel marzo, se non ricordo male, del 2005, anche nell'ordinamento italiano non fosse stata recepita la legge sul market abuse, imposta dall'Europa, che aumentava le pene e permetteva, per esempio, le intercettazioni telefoniche per questo tipo di reati, chi li avrebbe scoperti questi? Questi sarebbero andati avanti. Probabilmente neanche loro sapevano che nell'ordinamento italiano era stato appena recepito, un mese prima, la legge sul market abuse europea per cui loro erano intercettabili. Perché fino al mese prima non sarebbero stati intercettabili. E poi ha funzionato, una volta tanto in questo Paese, ha funzionato l'informazione. Perché i giornali, alcuni giornali, vuoi per interesse dei loro editori, vuoi anche perché ci sono, santi Dio dei giornalisti che fanno bene il loro mestiere in questo Paese, hanno raccontato, quasi in presa diretta, che cosa stava succedendo. Hanno scritto sui loro giornali le scalate come stavano avvenendo e con gli intrecci destra-sinistra che erano in corso. Ed allora è così, perché oggi si minimizza, si dice ma no, era una cosa impossibile, non avevano una lira, dove voi che andassero, erano degli sciagurati. Eh, se non ci fosse stata la legge sul market abuse, se non ci fossero stati giornalisti a raccontare e a creare un blocco e un argine a quello che stava accadendo, il progetto stava in piedi perché aveva una sponda sinistra. Quello è la novità della cosa. Perché non c'è solo il tifo, in sé il tifo non mi scandalizza, cioè è anche legittimo, se uno è contento perché una banca entra a far parte del movimento cooperativo, beh, chi se ne frega, in sé non è illegittimo. Il problema è che ci sono dei dirigenti politici che non si sono limitati a fare il tifo, ma che hanno fatto un'operazione di merchant bank, hanno fatto i banchieri d'affari. Perché se è vero quanto riusciamo a capire dei fatti, e cioè che ci sono importanti leader politici, un leader politico importante e un senatore suo braccio destro, che si danno da fare per trattare con Caltagirone l'entrata o meno nella questione BNL, eccetera. Se si danno da fare a trattare con Bonsignore, un personaggio col quale io francamente non andrei neanche a cena, ma insomma, a trattare per la permanenza o meno dentro l'azionariato BNL. Se addirittura si dice, ho parlato con degli ambienti milanesi, se ci riuscite vedrete che vi verranno dietro. Qui c'è un'operazione di merchant bank, cioè c'è un leader politico che si mette al servizio di un progetto e che lo fa suo, anzi, che ne è protagonista. Tanto che c'è un altro leader politico che dà un'intervista al Sole 24 Ore in cui dice una cosa che francamente non ha tanto senso, che sdogana gli avventurieri. Dice, beh, è tanto dignitoso vendere immobili quanto produrre scarpe o fare telefonia, che è una cosa che non ha senso. Cioè un qualunque economista, anche liberale, liberista, tutto quel che volete, sa distinguere tra chi fa produzione e chi fa speculazione immobiliare. Sono due cose, per carità, se fate nelle regole legittime entrambi, ma non sono la stessa cosa. Ora, come fai? E perché devi dare al Corriere della Sera un'intervista in cui tu, in pratica, sdogani ricucci. L'unica spiegazione è che tu abbia l'interesse a sostenere un'ala perché quell'ala sostiene anche il tuo mezzo progetto dall'altra parte. E allora la solidità e la solidarietà delle due cose va vista insieme. L'una cosa spiega l'altra, l'una cosa sostiene l'altra. Il problema è che quei dirigenti politici erano stati eletti e avevano la fiducia degli elettori del centro-sinistra non per fare un'azione di Merchant Bank, ma per cercare di riformare la politica italiana. E allora questo è il grande tradimento che gli elettori di centro-sinistra hanno avuto. E allora, certo, sono state bruciate le teste d'ariete, quelle che avrebbero dovuto fare il lavoro sporco. E quel progetto lì non ha funzionato. Ma i protagonisti, i protagonisti di prima fila, quelli che stavano dietro, i padrini di quell'operazione, sono ancora su piazza. Berlusconi, Dell'Utri avevano un ruolo importante da una parte e dall'altra, D'Alema, la Torre, avevano un ruolo diretto in quella vicenda. E allora, ecco perché abbiamo dedicato un lungo capitolo a questa vicenda, ecco perché io credo che capire quella cosa lì, quello che è successo nella primavera e estate del 2005, è importante per capire oggi che cos'è, dove siamo, dove siamo oggi, che cosa ci sta capitando, che cosa ci può tornare a capitare. Perché quella cosa lì è avvenuta, è avvenuta e non si torna indietro, non si cancella. E allora capiamo anche alcune cose ricorrenti che poi avvengono nella politica italiana, per esempio il tentativo di indebolire i sistemi di controllo di legalità, la magistratura in primo luogo. Capiamo per esempio questa ossessione per le intercettazioni telefoniche. È una cosa incredibile che nel Paese in cui siamo andati avanti per cinque anni a dare carta bianca a Piopompa e compagnia che facevano indagini illegali nei confronti di magistrati, giornalisti, politici, imprenditori che nulla facevano di illegale se non magari avere un ruolo di indagine nei confronti dell'allora Presidente del Consiglio o un ruolo, nel caso dei giornalisti, di inchiesta anche critica nei confronti del centro-destra. Allora, quello pare che non sia più un problema, che non sia mai stato un problema, e invece l'ossessione è per le intercettazioni quelle legali, quelle che servono quotidianamente, Scarpinato lo sa, per scoprire i mafiosi, i corrotti, eccetera. Ecco, allora, io credo che capire bene che cosa è successo nell'estate del 2005 sia essenziale per capire che cosa ci aspetta, ahimè temo, nei prossimi anni. Oppure non ci aspetta, ma allora questo dipende da noi, cioè dipende dalla reazione dei cittadini. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.